caos vero e proprio nel comune di pineto dovuto agli interventi che si dovevano e si dovrebbero fare riguardanti l'erosione costiera il comitato via della regione abruzzo di fatti ha bocciato il terzo progetto appunto proposto per risolvere questa possiamo dire drammatica situazione e ad oggi in vista appunto della stagione balneare possiamo dire che la situazione non è di fatto migliorata ma io intanto ci tengo a fare una precisazione ossia che l'amministrazione comunale di pineto non ha vinto nessuna battaglia noi siamo particolarmente preoccupati per la bocciatura di questo di questo progetto e speriamo che prima o poi si esca da questo piccolo cieco nel quale sostanzialmente ci si è andati a finire si è andate a finire perché qualcuno ha pensato di fare campagna elettorale qui a pineto e ha presentato un terzo progetto del quale sinceramente non vi era necessità di dotarsene visto che ne erano già stati presentati due uno dalla regione e uno dal dal comune questo progetto è stato bocciato perché definito incongruente rispetto alle previsioni del piano di difesa della costa regionale e perché manchevole dello studio cosiddetto meteo marino cioè che attesti che una determinata opera con determinate caratteristiche non arrechino danno in termini erosivi sul sottofrutto cioè quando l'amministrazione comunale un grave danno soprattutto in vista della stagione balneari in vista soprattutto per gli operatori balneari assolutamente sì assolutamente sì perché a questo punto credo che sarà molto difficile pensare di avere delle opere realizzate già per la prossima stagione estiva considerato che praticamente siamo già già a febbraio questo sarebbe stato possibile qualora al centro della discussione fosse stato posto per esempio il progetto preliminare presentato dal comune di pineto sul quale ovviamente poi potevamo discutere anche rispetto a qualche variazione tecnica ma rifarlo con delle caratteristiche completamente completamente diverte parte la soluzione generale presa in considerazione è stato secondo me un autogol ed è un autogol per la comunità